allora ragazzi della pastorale giovanile di verona buongiorno stiamo arrivando in città olimpica ecco l'ingresso di sidagi olimpica la nostra il nostro quartiere preferito quello dove la dioci di verona è stata presente per 15 anni eccoci qua entriamo nell'avenida principale è grandissima ci sono due e osserva e osserva l'asfalto è arrivato l'asfalto ragazzi è una roba che noi non ci possiamo credere adesso qua che autobus camion gente che cammina stiamo arrivando anche alla chiesa della santissima trinità è la nostra parrocchia la parrocchia principale la chiesa principale della parrocchia che è composta da nove comunità qua che è il mussetto va bene abbiamo perso il mussetto era un min musso attenzione adesso in lontananza eccola qui tutta l'avenida e qua è uno scannafosso aspetta che è un dosso e la cosa bella della parrocchia santissima trinità è che innanzitutto che una macchina della pulizia parcheggia davanti e già qui mi preoccupa un po' ma che qualcuno ultimamente ha deciso di costruire di fianco una chiesa evangelica quindi siamo chiesa evangelica e una chiesa cattolica una a fianco all'altra figata figata dove le visti questi qua abbigliamento tipicamente brasilero no ma vabbè lasciamo passare questo cane zoppo buonetto andiamo i bordi strada eccoci arrivati il signor cane eccoci qua alla santissima trinità la comunità dell'assunção di nostra signora della assunta ha organizzato una festa gigante con anche le bandierine